Il suicidio assistito è diverso dall'euternanzia, questo è il primo parere del Comitato Nazionale di Bioetica. Nel testo ci sono opinioni diverse dei componenti. Virginia Luzzito. Una questione come l'aiuto al suicidio presenta problemi interrogativi a cui non è semplice dare una risposta. Il Comitato di Bioetica lo mette subito in chiaro, pubblica il primo parere sul suicidio assistito sollecitato dalla consulta dopo il caso di Marco Cappato che accompagnò DJ Fabo in Svizzera fino agli ultimi istanti. Il Comitato si divide e si registrano pareri diversi. Da conciliare, si legge nel documento, due principi bioticamente rilevanti. La salvaguardia della vita umana da un lato e l'autonomia e l'autodeterminazione del soggetto dall'altro. Si distingue l'etanasia dal suicidio assistito. Chi ha votato a favore del documento, spiega il Presidente del Comitato di Bioetica Davac, punta a fare chiarezza e a sollecitare la risposta del legislatore in materia, ma non è un'apertura al suicidio assistito. Dal Comitato una lezione al Parlamento, commenta Cappato. Ora intervengano le Camere, chiede l'Associazione Luca Coscioni. Per Alberto Gambino, Presidente dell'Associazione Scienze e Vita, l'idea che si possa legalizzare qualunque forma di suicidio assistito aprirebbe comunque la strada all'eutanasia.